Salve a tutti, oggi ho preparato questa squisitissima coppa del nonno, ho anche crema al caffè. Nel boccale del bimbi ho versato un uovo, 100 ml di caffè ristretto e 100 g di zucchero. Ho frullato un po', ho aggiunto farfalla e 500 ml di panna e ho montato per circa 4 minuti. Ne è venuta fuori una crema squisita, ho spolverizzato di cacao amaro, lasciato in frigo almeno 3 ore prima di servire. Ragazze, se il dolce ce lo dobbiamo concedere una volta a settimana, che sia buono. Ci vediamo alla prossima ricetta e se questa vi è piaciuta mi raccomando iscrivetevi al canale.